l'emergenza tricologica in corso sole alto in cielo nella capitale 16 e 45 di venerdì una bella gnocca con la quale lavorare no un bel pitale siamo la famiglia quintaletti secondo te sto male dei venerdì alle cinque a lavorare in ufficio con uno brutto quanto me ma con idee e voglia di fare quanto me vuol dire che ne vale la pena vuol dire che se lavora oggi per godere tra poco però non sarà facile non sarà matematico sarà fattibile lavoro ben fatto non è scontato ma non è manco creato anzi in questo caso è scontato nel senso che famosco giochi di parole questa volta c'è il sole fuori andiamo in giro a far caso no stiamo a lavorare per poi godere del fatturato